Pat Carra, autrice di Sex of Humor. Come nasce questo libro? È un libro che avevo in mente da molto tempo, è nato a poco a poco e poi è cresciuto, come dire, a poco a poco e poi per una serie di contingenze storiche ha visto la luce. Questo libro racconta i conflitti fra gli uomini e le donne lungo un periodo che va dagli ultimi anni, non solo l'attualità, come si svolgono i conflitti fra gli uomini e le donne, ma tutto in una vignetta, tutto in una battuta e quindi non è un saggio naturalmente. Volevo raccontare i rapporti col corpo, la chirurgia estetica, il viagra, il delirio di onnipotenza e il delirio di impotenza, insomma volevo raccontare una serie di cose così a vignette e strisce. Ha iniziato molti anni fa a fare questo mestiere, com'è cambiata la satira e il rapporto tra uomo e la donna? Io ho cominciato tanti anni fa a disegnare fumetti in cui sempre c'erano donne e pochissime figure maschili, pochissimo disegnavo gli uomini. Per me è stato proprio il fumetto nel femminismo, il raccontarsi tra amiche, tra donne, dare la traduzione umoristica della conversazione femminile, della presa di coscienza. Poco a poco i fumetti, anche i miei fumetti si sono popolati negli ultimi anni anche di uomini, insomma ho cominciato a disegnare anche gli uomini. È successo così, quindi non so neanche io come interpretare questo fatto, se non che è cambiato così tanto il rapporto tra gli uomini e le donne, ma soprattutto le donne sono cambiate così tanto che gli uomini sono, come dire, è finito il separatismo nel femminismo e nella politica, è finito anche nei miei fumetti. Sono entrati gli uomini e ci si è messi a parlare con le difficoltà, così ho fatto il mio teatrino, ecco. Dopo il separatismo ho fatto il mio teatrino del parlarsi fra uomini e donne dicendosi delle verità. Qual è la parola d'ordine di oggi tra l'uomo e la donna? Si parla di sessualità perché naturalmente tutto quello che avviene nel mio fumetti avviene nel linguaggio, nei testi, nelle parole, avviene intorno, anche se ci sono nei letti, nei divani, ma avviene intorno a dei discorsi. Quindi si parla di questo, si parla di conflitti ineliminabili, della differenza che c'è fra uomini e donne. Io poi nei miei fumetti parla di più la differenza delle donne, insomma, quello che le donne vorrebbero, per esempio, dialogare di più, parlare di più, quindi invece la chiusura al dialogo, all'ascolto che ci può essere negli uomini. Però, insomma, il tutto è in chiave, appunto, umoristica, per cui viene presa in giro sia l'insistenza, il sogno d'amore femminile, sia il delirio di potere, che è l'altra faccia, e il delirio di potere e non dialogo degli uomini. Entrambe le cose sono prese in giro. È cambiato molto il fronteggiarsi, è cambiato il... credo che si hanno cambiati tanto. Ecco, le donne si sono sempre di più sottratte a dei linguaggi del potere, al potere, e poi il patriarcato è finito, quindi sono finiti completamente delle figure fisse, dei ruoli stereotipati in cui le donne sono state. E così è cambiato, è cambiato tutto fra gli uomini e le donne. Una certa difficoltà maschile nei confronti delle donne nasce anche da una presa di autonomia che hanno avuto le donne. La parte centrale del libro è dedicata a Veronica Lario. Cosa distingue Veronica da tutte le altre donne che hanno circondato Berlusconi? No, ci sono state tante donne. Veronica Lario è stata, era la moglie di un uomo pubblico. È quella che ha parlato e ha detto, mio marito è un uomo pubblico, svelando anche che era un pericolo pubblico, e quindi con un'autorità fortissima, perché lei lo ha detto da una posizione in cui non c'era bisogno di intercettarlo, cioè ha detto una verità semplicemente aprendo la porta di casa sua. Quindi lei ha avuto un'autorità fortissima, poi non è che ha avuto un potere, ha avuto proprio un'autorità femminile nel dire questa cosa, che diciamo altre che hanno avuto anche, io dico anche il coraggio, anche il coraggio di parlare, come per esempio poi Patrizia D'Addario, che era anche in una posizione molto scomoda e di donna più fragile, diciamo come posizione, non è riuscita ad avere quell'autorità, anche se ha avuto il coraggio poi di dire la sua verità. Che capacità deve avere l'artista per poter narrare un fatto di cronaca con ironia, ma senza trasformarlo in una burletta? Ma questo penso sia così il fare di ogni umorista, ci vuole molta rabbia, per quanto riguarda me ci vuole proprio avere molta rabbia, per quello che succede, non indignazione, perché l'indignazione ti fa diventare molto seria purtroppo, però molta rabbia che è un elemento essenziale, per me lo è, dell'umorismo, quindi voglia proprio di fare una lotta, di tradurre qualcosa in ridere, perché però proprio non sopporti più che quella cosa sia né tragica né troppo pesante, quindi rabbia è un elemento essenziale. Poi nel mio caso, nel caso di questo libro, ci vuole un desiderio di sottrarsi al linguaggio del pubblico, potere, di schivarlo, di sottrarsi senza, come fa l'umorismo in genere, però secondo me le donne lo possono fare in un modo molto particolare, senza una contrapposizione, ma proprio disgregando dall'interno. Per me, io ho cercato di fare la traduzione umoristica di quello che, nel caso di Veronica Lario, lei diceva come realtà tragica sua, della sua famiglia, ma anche di un paese intero, perché naturalmente a tutti noi è interessato perché riguardava un paese intero. Io ho voluto fare la traduzione umoristica, ma perché appunto penso che ci sia anche molto da ridere, in questo crepuscolo degli dèi c'è molto da ridere, credo che le donne possano ridere molto nel crepuscolo degli dèi. Ma c'è una responsabilità femminile della donna dell'uso del proprio corpo in tutta questa vicenda dell'escort, o la donna continua a essere vittima di una società maschile? Non esiste la donna, esistono tante donne, ognuna poi parla per sé, quindi non esiste una categoria universale di donna. Io non vedo che ci fossero molte vittime in tutta questa vicenda, anzi ci sono donne che hanno avuto il destino, anche in qualche modo, anche le più incastrate nel gioco hanno avuto però il destino, il nuovo destino di svelarlo però questo gioco, perché insomma poi alla fine hanno parlato tutto, tutte, e questa è una novità, è una novità. La parte fine del libro è dedicata a una lunga galleria di donne che cercano partner molto particolari, da dove nasce questo tuo spunto? Nell'ultima parte che si chiama Annunci e Luci Rosse, che è un gioco molto di linguaggio, ci sono tante donne diverse che partendo proprio da sé, quindi soggettivamente, più che cercare dei partner di qualsiasi sesso essi siano, più che cercare partner si interrogano su e si interrogano e dicono dei loro desideri, confessabili o inconfessabili, naturalmente poi il divertente è che in questa parte di Annunci e Luci Rosse nel libro vengono confessati i desideri e vengono detti, non sono tanto stereotipi di donne, sono una miriade di donne che singolarmente parlano, mi piace questo format dell'annuncio perché l'annuncio non è un dialogo, io ho fatto un libro precedente che sono gli annunci di lavoro e mi piace, è sempre così, singole, che si mettono lì e dicono io cerco, e questa è una cosa che a me diverte molto e è riuscita anche con Annunci e Luci Rosse. Che riscontro hai dalle elettrici? Si ritrovano nei modelli di donna che descrivi? Beh, le mie elettrici sono anche quelle che conosco, sono poi le persone, le donne intorno a me, le amiche e tutte quelle che incontro. Io sono sostenuta, con questo lavoro ho sempre sentito forte la presenza delle elettrici, ispiratrici. Poi è un pubblico, mettendo io in scena nel fumetto più donne che uomini, penso anche di avere un pubblico più di donne che di uomini, però si sta anche allargando secondo me questa cosa, perché si sta allargando qualcosa nella società, ecco, di ascolto tra i sessi. Io mi sento empatica, spero che anche loro, le donne, io credo che abbiano proprio voglia di ridere.